Dopo due mesi di acqua sul fuoco gettata dal dietrofront, annunciato a luglio da Marche Multiservizi sul progetto di discarica da realizzare a Riceci, si rialza il vento di tensione attorno allo spauracchio della costruzione dell'impianto di smaltimento di rifiuti speciali nelle colline petrianesi. Ieri sui terreni in questione si sono attivate trivelle per carotaggi dedicati a sondaggi geologici richiesti dal Genio Civile su indicazione del progetto originario di discarica di Aurora SRL. Un cantiere preannunciato da un post su Facebook del sindaco di Petriano Fabrizioli che aveva chiarito come queste verifiche, già effettuate cinque mesi fa, rientrassero in un'attività di edilizia libera prevista dalla legge su aree opzionate con preliminare di compravendita autorizzate dai proprietari e con 180 giorni concessi alla società sanmarinese Aurora per ulteriori verifiche tecniche. Le trivelle in movimento hanno però mandato subito in fibrillazioni residenti con i lavori che sono stati bloccati su segnalazione di carotaggi su un terreno che potrebbe non rientrare fra quegli opzionati. Lavori sospesi in attesa di verifiche ma che tendono di nuovo un nervo scoperto sull'argomento discarica a pochi giorni da un nuovo vento di protesta pronto a trasformarsi in manifestazione. Quella prevista per sabato alle 10 di mattina in Piazza del Popolo apparecchiata dalle associazioni diversamente, la lupus in fabola e il comitato di Urbino contro la discarica. Manifestazione che rinfocolerà anche il fronte del nolbio di gestore di Talacchio in un'unica protesta contro un'errata gestione dei rifiuti. Dalle proteste alle carte bollate ieri è stata notificata una querela per diffamazione a Gianluca Carrabs da parte dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli. L'esponente nazionale dei Verdi più Europa viene querelato per frasi ritenute diffamatorie in alcuni interventi pubblici dello stesso Carrabs che attraverso la sua pagina Facebook ha mostrato la notifica del Tribunale commentandola come una medaglia da porre sul petto. Il prezzo che si paga per dire la verità e difendere il diritto alla salute, alla bellezza e uno sviluppo sostenibile. Nessuno mi chiuderà la bocca e impedirà che continui nelle mie battaglie ambientaliste.